Si mobilitano i sindacati alla luce delle dichiarazioni sui tagli da applicare ai CAF. Una situazione che allarma perché colpirebbe le categorie più svantaggiate che vedrebbero venire meno un servizio importante e indispensabile e tra l'altro il taglio dei posti di lavoro per tutte quelle sedi che verrebbero meno. Quante persone rischiano con questa manovra? Io penso intorno alle 300 unità di personale tra CAF e INEA sul territorio provinciale per quanto riguarda CGL, CISL, Will ma anche ACLI, anche altri perché tutti rischiano naturalmente perché tutti vanno comunque ad accedere al fondo patronati. Nella mattinata odierna è stato consegnato un documento in prefettura Pescara per testimoniare la grave preoccupazione di tutto il comparto. Qui il rischio grave è non solo di chiudere le sedi quindi con ripercussioni pesantissime sul personale ma soprattutto di abbassare notevolmente la qualità e la capillarità del servizio. Noi attualmente siamo presenti in moltissime sedi, diamo un servizio importante di tutela, di consulenza, di assistenza, di patrocinio gratuito. Alla luce di questi tagli non credo che sarà possibile mantenere questi livelli di servizio. Sono tagli, si parla di 28 milioni di euro su tutti i patronati, sono tagli pesantissimi che ci costringeranno ad abbassare il livello di servizio. In attesa di una risposta i tempi sono stretti e al termine della scadenza è già stata annunciata una mobilitazione nazionale. Abbiamo ancora una settimana, massimo 10 giorni, e lì il provvedimento dovrebbe uscire dalle commissioni per andare in aula. A quel punto noi avremo già precisa contezza dell'entità del taglio e se queste nostre lotte saranno riuscite ad ottenere il taglio del taglio.